Buongiorno, tutto un po' arruffata, ieri è stata una giornata famitastica Ciao a tutti amici, TanoTV per voi! Allora, questo nuovo gossip è arrivato e si parlerà di Rosalinda e Andrea Zenga che sono andati un giorno intero a Gardaland si sono divertiti, sono andati in tante giostre e naturalmente il giorno dopo hanno postato dei video su Instagram dove raccontano quello che sentono iniziando da Rosalinda e poi Andrea iscrivervi al canale, attivare la campanella e mettere il vostro commento sotto il video Buongiorno, tutto un po' arruffata, ieri è stata una giornata famitastica io adoro i parchi giochi e in particolar modo a Gardaland c'ero stato un sacco di volte quando ero piccola e quando Andrea mi ha detto voglio farti una sorpresa ti voglio portare a Gardaland perché sapeva che mi piaceva tantissimo io ero super felice come una bambina e niente, ci siamo stra divertiti io in particolar modo perché adoro le montagne russe le ho fatte tutte ho fatto anche il bis, tra l'altro l'ultimo è il blu tornato l'ho fatta in prima fila dove veramente ti godi la montagna russa a tutti gli effetti non so se voi, molti di voi come me amate queste sensazioni questa adrenalina io l'amo, cioè io ci riendrei anche domani però non credo che andrei d'accordo con me ragazzi buongiorno a tutti, come state? allora io come avete notato mi sono appena alzato però tra tutto ieri ci siamo fermati a Peschiera a vedere la partita, a mangiare qualcosa e poi siamo tornati a casa, abbiamo beccato traffico quindi saranno state le due e un quarto così non sono più abituato a questi orari quindi sono abbastanza stanco e ieri sono un po' sparito perché avevo il telefono scarico però oggi pomeriggio appena mi faccio una doccia e mi riprendo, parliamo un po' sia di Gardaland che soprattutto dell'Italia ieri a tutti 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 Grazie a tutti